Bene, mi chiedevo che fossero i proprietari? Guarda, i proprietari sono due ricchi miliardari texani che stanno anche per schiattare, qui comunque abbiamo i servizi, entri tranquillamente. Il lavabbo, guardi, è stato messo a pochissimo, da un muratore rume, un bravissimo, più ubriaco, messo a ubriaco, guarda, la doccia è pezzo forte e qui entrano tranquillamente 7-8 persone. Ma io direi, stringendoci l'uno dentro l'altro anche in 10, anche in 10, abbiamo una bella porta, stile Ikea, molto bella, cosa l'ha preso? Porta per te, tra l'altro. Antico ma efficiente? Sì, non è che la pezzi, mi scusi, posso modificare. Pianche antiche, libri antichi, il tavolino è bellissimo, calcoli che lo stavo prendendo io, invece lo lascio, qui abbiamo un parquet bellissimo, un finto ciliegio colombiano-africano, venga qui, e la stanza, retinta da pochissimo, fatta sempre dal cugino del muratore, 600 euro. È uno spettacolo, è uno spettacolo questa stanza. Guardi le lampade, bellissime, guardi, però guardi, il pezzo forte, il pezzo forte che io faccio sempre un figurone è la vista, la più bella vista di presenza. Cosa vediamo? Una vista così, solo dal campanile, la puoi guardare, guardi, venga, si affaccia a destra, guardi, non caschi, guardi qui a destra, anche a destra, guardi. Madonna, ma è una cosa fantastica. È bellissima, ma lei la compra questa casa? Lei la compra questa cosa? No, sta bene? Sta bene? Oh merda.